Si apre ai workshop e agli artisti del territorio la Fondazione Museo Pascali. Per tutto il 2013 le rassegne, oltre che aperte al pubblico, saranno occasione di veri e propri laboratori con gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bari, come è accaduto con Pierpaolo Miccolis, giovane artista pugliese, abituato a lavorare soprattutto con carta e acquerello e a disegnare elementi della natura, oltre che sembianze di umano. L'ultima sua personale si inaugura sabato prossimo al Museo Pascali e resterà aperta fino al 18 febbraio ed è curata da Isabella Battista. Con gli studenti, Miccolis ha voluto spiegare alla sua formazione i suoi ispiratori, pubblico attento che ha spesso interagito con l'artista. La mostra, che si inaugura sabato, si intitola Nella Coda sta il veleno, due cicli inediti, bestiari e aviari, che indicano nell'espressione latina che il momento finale è quello più difficile, il veleno della coda, appunto. Uccelli senza ali e modificati, magari due razze insieme, frutto di uno studio attento dei volatili migratori che stazionano in varie stagioni nel nostro territorio. A questi vanno uniti i flight sick metamorfosi di corpi animali di varie dimensioni. Il laboratorio, con gli studenti dell'Accademia, produrrà un'altra opera del genere, sotto la supervisione di Pierpaolo Miccolis, che a soli 27 anni ha già qualcosa da imparare a chi dell'arte vorrebbe fare il suo mestiere.